Alla conferenza stampa di presentazione dell'Opificio dell'Abilità di Battipaglia non poteva mancare Antonio Cerra, amministratore dell'ente di formazione professionale Edafos Formazione. Una grande opportunità per tantissime persone, soprattutto per i giovani di questo territorio e non solo. Sicuramente è un'opportunità per i giovani ma non dimentichiamo anche quelle persone che in un modo o nell'altro hanno bisogno di avere una nuova ricollocazione nel mondo del lavoro. Dobbiamo considerare, perdona la ripetizione del termine, che ci sono tante persone che hanno difficoltà adesso ad inserirsi di nuovo nel lavoro. Sono cassi integrati, sono in mobilità o perché no sono disoccupati o percettori di reddito di cittadinanza. Attualmente con il progetto Pificio delle Abilità, che fondamentalmente è un trademark in fase di registrazione di Edafos Formazione SRL, noi vogliamo dare la possibilità di dare, non so se è troppo presuntuosa come cosa, una seconda possibilità anche a queste persone. O quantomeno una nuova ripartenza dal loro punto di vista lavorativo. Andremo a creare dei percorsi formativi strutturati per giovani e per meno giovani, che avranno quindi la possibilità di un facile inserimento nel mondo del lavoro, passando attraverso il tirocinio formativo retribuito per poi ottenere un facile inserimento nel mondo del lavoro. perché attualmente la richiesta di determinate figure è così forte da sopperire, da surclassare notevolmente l'offerta, la disponibilità di persone già formate. Il nostro obiettivo, per quanto non lo so, io a volte mi sento presuntuoso nel dirlo, è quello di dare un'opportunità a questo territorio tramite la mia scuola. Come possono fare a rivolgersi a voi le persone che vogliono diventare competitive sul mondo del lavoro, nel mondo del lavoro? Devono venire qui, devono essere profilate, perché ho bisogno di capire da dove si parte per poi capire dove dobbiamo arrivare, quindi questo lo dobbiamo definire. Immagino che una persona venga qui, farà un questionario, un test da noi, vediamo un attimino da dove farla partire e dove portarla soprattutto. Vedere pure un attimino quali sono le potenzialità nascoste dietro una persona, le proprie inclinazioni, diciamo che ci sarà una forte profilazione da questo punto di vista, avvalendoci anche delle APL, quindi agenzie per il lavoro, e delle agenzie interinali, da cui tra l'altro già siamo stati contattati prima ancora del nascere, perché la nostra soluzione è fantastica per la loro esigenza. È stato appena presentato a Battipaglia l'opificio delle abilità e ne parliamo con il consigliere del Comune di Bellizzi, nonché imprenditore Maurizio Foglia. Una bella opportunità, soprattutto per i giovani. Certo, questa è un'opportunità che bisogna cogliere, perché dobbiamo puntare tutto sulla formazione, perché la formazione è fondamentale, perché inserirsi oggi nel mondo del lavoro, e non solo inserirsi, ma migliorarsi, pure chi è già al lavoro, è fondamentale ed è importantissimo formarsi. Ad esempio, oggi si punta tutto sulle lavorazioni nelle industrie del 4.0, dove attualmente mancano tanti e tanti operatori che le sanno usare questi macchinari. Il 4.0 è applicato all'industria, all'agricoltura, un po' a tutto, il controllo numerico è il futuro ed anche il presente. Quindi un'opportunità in termini di lavoro per tante persone. Un'opportunità importantissima, perché formarsi e avere l'abilitazione a questo tipo di lavorazione significa assicurarsi il posto di lavoro. Alla presentazione dell'opificio delle abilità a Battipaglia, anche il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, sindaco una grande opportunità, ma anche perché Battipaglia è una zona ben collegata, quindi questa sarà un'opportunità per tutti i giovani del territorio e anche per i meno giovani. Sì, credo che questa è un'area strategica particolare, c'è una richiesta enorme di formazione professionale, di giovani che vanno formati. Qui parliamo ancora del tornio, parliamo della saldatrice a filo continuo, c'è lavori che qualcuno li vede lontani ma non se ne trovano. Quindi, secondo me, l'investimento che mi ha dato merito ad Antonio Cerra, che è un po' il direttore di questa azienda, di aver fatto un investimento rischioso, però intelligente. Intelligente perché attualmente c'è la necessità che questi giovani vengano formati e già nelle aziende si può fare addirittura un accordo preventivo sul numero da assumere in base alla formazione che viene sviluppata. Quindi è un'operazione molto intelligente. Mi auguro che poi possa partecipare e allargare gli orizzonti perché va a sopperire il mercato della scuola pubblica, la formazione pubblica che non c'è più. Molte aziende ci riempiamo la bocca di 4.0, però alla fine se non hai tecnici specializzati, tu con il 3D non vai da nessuna parte se non hai tecnici preparati, uomini e donne bravi. Quindi credo che questo è un bel investimento e va premiato. Secondo me va lodato l'azienda per questa operazione sul territorio particolare della Piana del Sile. Maurizio Palmieri, amministratore dell'azienda LabMec. Noi vediamo tante macchine, tante strumentazioni nell'opificio delle abilità che è sorto a battipaglia, ma a cosa servono e cosa si insegnerà qui? Perfetto, allora queste sono due macchine, un laser ed un pantografo a controllo numerico, ci sono anche dei torni che sono stati piazzati dall'altra parte e sono delle macchine che servono per poter produrre i pezzi. Fino a qualche anno fa la produzione era affidata a degli artigiani, oggi invece attraverso queste macchine le abilità degli operatori sono cambiate, quindi attraverso un modellatore di pezzi in tre dimensioni si può ottenere un file, lo si dà in pasto alle macchine e le macchine lo realizzano. Chi viene qui impara proprio con queste macchine d'avanguardia e nuovissime. Assolutamente sì, qui si ha la possibilità di fare un percorso, un percorso che in alcuni casi può durare brevissimi periodi, in altri casi invece è molto più lungo e si acquisiscono tutte quelle competenze che oggi sono appetibili alle aziende.